La famiglia reale di Ravenia stava per visitare una città straniera durante il suo viaggio nel mondo. Naturalmente avevano tutti con sé le loro preziose corone. Per l'occasione chiesero al sindaco della città di prendere particolari precauzioni. Il sindaco mise quindi le corone in una cassaforte nel suo ufficio, sorvegliato da due agenti di sicurezza. Tuttavia, la mattina dopo, quando il sindaco andò a controllare le corone per riferire alla famiglia reale se erano al sicuro, andò nel panico. Riesce a indovinare perché? Perché le corone nella cassaforte non sono quelle vere. La prima corona ha un cartellino del prezzo, la seconda è rotta, mentre alla terza manca una pietra preziosa. Questo non sarebbe stato possibile se fossero state le corone originali. Il sindaco voleva assicurarsi che il colpevole venisse catturato. Sperava anche che la polizia lo trovasse prima che i media ne fossero venuti a conoscenza. E l'unica persona che poteva aiutarlo era la detective Zelda. La chiamò subito, la detective arrivò nel suo ufficio e ispezionò la stanza, accorgendosi di una cosa che sarebbe stata utile nelle indagini. C'è un pezzo di carta sotto una delle corone tinte. Il ladro aveva lasciato un biglietto. La detective Zelda lo lesse. Caro sindaco, sono molto deluso da lei. Questo incidente ha dimostrato quanto lei sia incapace di fornire conforto e sicurezza ai suoi ospiti, così come i suoi concittadini. Potrei quindi restituirle le corone se mi pagasse un enorme, e dico enorme, somma di denaro. Si segni le mie parole e conti quello che dico nella lettera su questo tema. Cosa puoi fare con questo numero? Il sindaco pensò subito fosse un numero di telefono, lo chiamò, ma proprio come sospettava la detective Zelda, non rispose nessuno. In una delle ultime frasi della lettera, l'uomo degli enigmi aveva sottolineato segni, parole, conti e lettera. Deve essere un indizio. Il numero prima del punto indica quale parola cercare nella nota, e il numero dopo il punto ti dice quale lettera ti serve in quella parola. Ad esempio, 18.1 significa che devi trovare la diciottesima parola, che è conforto. La lettera che ti serve è la prima, la C. Se lo fai per tutti i numeri, ottieni Caffè Est. Prima di recarsi al bar, la detective Zelda decise di controllare il filmato notturno delle telecamere di sicurezza. Il sindaco la portò nella stanza di sorveglianza, in cui c'erano tre diversi monitor, ognuno dei quali mostrava la stanza da diverse angolazioni. La detective Zelda si rese conto che solo uno schermo registrava dal vivo, gli altri due mostravano immagini false. Quale registrazione è vera e perché? Ricordi com'era la stanza quando la detective Zelda la stava ispezionando? L'orologio di certo non era su questo muro, era su quello opposto, quindi il filmato sul primo monitor è finto. Anche il filmato sul secondo monitor non è reale. Se guardi più da vicino, vedrai una falena che vola nella stanza, che però ripete sempre lo stesso movimento. È un filmato finto, montato male, quindi quello vero è quello del terzo monitor. La detective Zelda mandò indietro il filmato e scoprì il momento in cui l'uomo degli enigmi era entrato nella stanza. Aveva il viso coperto, quindi era impossibile dire che aspetto avesse. Tuttavia la detective riuscì ad accorgersi di una cosa che gli avrebbe permesso di scovare il criminale. Riesci a capire cosa? Se guardi nell'angolo in basso a sinistra, vedrai qualcuno entrare nella stanza e andarsene velocemente mentre l'uomo degli enigmi ruba le corone. Potrebbe significare che l'uomo degli enigmi aveva un complice? Per scoprirlo, la detective Zelda interrogò tutte le guardie di sicurezza che avevano svolto il turno di notte. La prima guardia, George, riferì di essere stato di guardia davanti alla porta. L'unica volta che aveva lasciato la sua postazione era stata per una breve pausa e andare in bagno. La seconda guardia, Joe, disse di essere stata tutta la notte davanti alla porta dell'ufficio del sindaco. E l'unica persona che si era presa una pausa era stata George. Anche la terza guardia, Brian, disse che era stato sempre vicino alla porta. La detective Zelda capì subito che solo uno dei tre diceva la verità, mentre gli altri due mentivano. Chi è il bugiardo? Ti ricordi che aspetto avevano le scarpe dell'uomo che era entrato nella stanza? Scarpe da ginnastica bianche. Sono quelle che indossa Brian, quindi sta mentendo. E dato che Joe non ha detto che Brian si era spostato, è anche lui un bugiardo. George è l'unico che dice la verità. Ciao! Brian e Joe iniziarono a supplicare la detective. Non possiamo finire in prigione! Non abbiamo rubato nulla! Deve crederci! La detective Zelda quindi gli chiese Allora perché avete mentito? Avevano sentito dei rumori provenire dalla stanza mentre George era via. Quindi Brian era andato a controllare la stanza, mentre Joe faceva la guardia. Quando Brian vide qualcuno nella stanza, si spaventò e corse fuori. Disse a Joe che avrebbe preferito perdere il lavoro piuttosto che mettersi in pericolo. Quanto a Joe, aveva mentito perché Brian era il suo miglior amico e non voleva venisse licenziato. E, dato che comunque non avevano visto nessuno entrare o uscire dalla stanza, pensarono di essersi immaginati tutto. Del resto erano parecchio stanchi. Secondo te, cosa può fare la detective per capire se stanno dicendo la verità? Può controllare i filmati di sorveglianza della strada fuori dall'edificio per confermare che nessuno sia entrato o uscito. La detective vide che nessuno era passato di lì, quindi giunse alla conclusione che Brian e Joe stavano dicendo la verità. Decise quindi di controllare ancora una volta l'ufficio per capire come fosse entrato l'uomo degli enigmi. Dopo un po', riuscì a individuare un'altra porta nascosta. E tu, riesci a vederla? Sì, la libreria in realtà è una porta. La esaminò per capire come aprirla. Vide che c'erano tre pulsanti, ma solo uno avrebbe funzionato. Se avesse premuto il pulsante sbagliato, la porta si sarebbe bloccata per sempre e non avrebbe capito dove portava. Quale pulsante avrebbe dovuto premere? Dai un'occhiata ai libri accanto ai pulsanti. Uno dei titoli non ha senso compiuto, a differenza degli altri. Deve essere un anagramma, una parola o una frase che risulta riordinando le lettere. Se metti in ordine le lettere, in effetti, leggerai il secondo pulsante. La detective Zelda lo premette e la porta della libreria si aprì. La donna vide uno stretto corridoio con scale che scendevano verso il basso. Fece un passo e le si chiuse dietro la porta. Cercò di aprirla con la forza, ma non ci riuscì. L'unica cosa che poteva fare era scendere le scale. Finì in una fossa sotterranea. Dentro non c'era nient'altro se non una pala e un cartello che le mostrava cosa c'era attorno alla fossa. Nel buco a sinistra c'erano serpenti velenosi. La fossa sulla destra era piena di gas velenoso. E proprio sopra la sua testa c'era un cane indemoniato con i denti aguzzi. Cosa avrebbe dovuto fare? Scavare verso l'alto. Deve sentire i rumori del cane e aspettare che si addormenti per poi superarlo. Deve essere così che l'uomo degli enigmi è entrato e uscito dalla stanza. La detective Zelda non voleva perdere altro tempo, quindi si diresse al caffè Est. Un ragazzo seduto al tavolo, in un angolo, attirò la sua attenzione. Aveva un fare sospetto. Quando la detective iniziò ad avvicinarsi a lui, scrisse velocemente qualcosa sul giornale che stava leggendo. Poi scappò attraverso la porta sul retro. La detective cercò di catturarlo, ma non ci riuscì. Guardò il giornale e trovò un altro biglietto. Diceva Non sei il sindaco, ma gli darò un'ultima possibilità. A quanto pare lavori per lui, quindi portami 20 milioni di euro in contanti. Possiamo incontrarci nell'edificio che ospita più storie tra due ore. A che edificio si riferiva l'uomo degli enigmi? Alla biblioteca Naturalmente la detective Zelda non gli avrebbe dato soldi. Prese una borsa vuota per ingannarlo, facendogli credere di avere i soldi per acciuffarlo. Andò in biblioteca. Quando entrò, vide l'uomo degli enigmi che indossava gli stessi occhiali da sole e lo stesso cappotto. La stava aspettando nella sezione Libri di enigmi e puzzle. Poi, all'improvviso, qualcuno la spinse accidentalmente, facendole cadere la borsa che si aprì. Così, l'uomo degli enigmi vide che era vuota e che era solo un piano per catturarlo. Scappò via. Ma durante la fuga lasciò cadere qualcosa. Un libro con dentro la tessera della biblioteca, su cui c'erano tre indirizzi diversi di tre persone che avevano già preso in prestito il libro. La detective Zelda capì subito qual era l'indirizzo dell'uomo degli enigmi. Come fece a scoprirlo? Ricordi il biglietto che l'uomo degli enigmi le aveva scritto al bar? Il primo indirizzo è stato scritto dalla stessa persona. La detective Zelda e due agenti di polizia fecero irruzione nell'appartamento dell'uomo degli enigmi. Trovarono le corone, ma il criminale era scomparso. Per qualche ragione, la detective Zelda aveva la sensazione che lo avrebbe incontrato di nuovo.